Vediamo a inviare la seconda March alla seconda battle e ricamiamo qui con noi Minogue Vediamo Pischiera Pischiero, Pischiero Facciatoti applausi no, no, no io non lo vedo non so dove stia cioè lo chiamo, grazie Lui è ex, lui è nato, stai a ripreparare, va bene, ma fai il cazzo che vuoi, copriamo noi, tanto siamo piccoli, siamo in diretta, ciao ho detto cazzo in diretta, si può dire, va bene, lui è nato sul palcoscenico, ci sgambetta tuttora e sono veramente contenta di averlo nel mio team perché è veramente un professionista, signori e signori, dal musical Amex! Entro Pascua, grazie! 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 Pascua, grazie!